Eccoci, tornati qui, sempre la tempesta rivolta a 012, siamo in compagnia di un uomo mascherato che, come ti dobbiamo chiamare? Uno. Siamo in compagnia di uno che è il rappresentante degli hardcore tamburo che stasera aprono le danze, sono i primi a suonare alle 19, allora carichi, pronti? Prontissimi, siamo pronti a sfondare le orecchie della gente, quindi tutti lì alle 7-5, non dobbiamo. 7-5, perfetto, tutti pronti. La gente che non vi conosce, se dovessi descriverti e descrivere gli hardcore tamburo che sono una cosa molto particolare? Ma gli hardcore tamburo sono un mix tra elettronica e percussione industriale, gli hardcore tamburo sono una cosa da vedere sostanzialmente, è difficile spiegare, quindi venite a vederci così capirete. La cosa bella è che c'è una sorta di, come hai detto tu, primitivismo industriale, quindi il genere è un po' particolare anche perché hardcore tamburo, strumento principale insieme alle basi elettroniche, sono anche dei tamburi, ma non sono i tamburi normali che vedi, che puoi comprare in qualsiasi negozio di strumenti musicali, no? Bidoni. Bidoni, bidoni veri e propri, suonati. Li trovi da qualsiasi meccanico. E in quanti siete? Ma gli hardcore tamburo hanno questa peculiarità, è un progetto aperto, siamo tipo una ventina di persone che a seconda dei concerti... E scambiate in qualche modo. Sì, per dire stasera siamo in sette, altre volte siamo in dieci, diciamo che è un progetto aperto e diciamo che in qualche modo si appoggia a batteristi di gruppi abbastanza conosciuti, anche adesso non voglio fare i nomi, però è presi un po' in tutta Italia, è una bella unione tra gente che ha avuto questa passione e questo attaccamento per questa sorta di primitivismo, di tribalità primitiva legata appunto a, in realtà, alla modernità dell'elettronica, no? Certo. E tra l'altro è in uscita, perché uscirà il 15 gennaio, l'album degli hardcore tamburo, giusto? Sì, il 15 gennaio uscirà sempre per La Tempesta, il primo nostro album che rappresenta in maniera solo sonora il nostro progetto, anche se, ripeto, i hardcore tamburo sono un progetto da vedere, da vedere, da gustarsi. Però diciamo che il disco credo sia venuto fuori abbastanza bene, dai. Ti posso fare una domanda, il disco si chiama Kleinermann, ok? Ok, tedesco. E c'è anche Gutenacht. Come mai nome è anche un pezzo all'interno dell'album in tedesco? Beh, perché credo che il progetto hardcore tamburo sia molto legato al mondo germanico. Ok. Credo che se uno dovesse in qualche modo citare dei punti di riferimento, penserebbe per dire ai Kraftwerk. Ok. C'è la Germania, c'è tanto dentro gli hardcore tamburi. Quindi proprio dal punto di vista, soprattutto anche elettronico, poi. Sì, sì, ma poi anche dal punto di vista dell'approccio rigoroso alla ritmicità. Cioè c'è proprio un rigore che secondo me è molto tipico del mondo teutonico. Della musicalità tedesca. Sì, 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 sì. Ho capito. Ed è facile mettere d'accordo da 1, 7, 12, 20 batteristi che suonano assieme? Eh, no. È lì difficile. Però quando funziona devo dire che è molto appagante. Molto appagante, sì. Perfetto. E tra l'altro, visto che prima hai detto che gli hardcore tamburi sono una cosa da vedere, quindi da andarci al live, per come siete disposti per gli strumenti che utilizzate, credo non sia... Cioè uno deve togliersi dall'idea di vedere la tipica band che fa rock'n'roll, dove c'è strofa, ritornello e la canzone. Per cui la domanda è questa. Pensi che poi sotto il palco si venga a creare una situazione magari più da dance floor rispetto a un concerto rock, per esempio? Beh, credo che gli hardcore tamburi siano probabilmente un trade union proprio tra queste cose. Cioè non è sicuramente un concerto tipico e non è neanche veramente un DJ set, no? Quindi con... Però credo che sia proprio un mix tra le due cose, è una roba abbastanza strana e credo che pensarla come proprio un punto di incontro tra le due cose sia la cosa più giusta, no? Ottimo. Tra l'altro, ultima domanda, sempre pronti con le collaborazioni, perché vedo che anche con gli AUK, che poi qui faranno DJ set, per cui anche non solo a collaborare con diversi strumentisti, in questo caso batteristi, ma anche con altre band. Sì, no, è stato buono perché nel disco praticamente c'è la versione di questo pezzo che si chiama La Canzone del Rumore, che è già un featuring con i Sictamburo, pezzo che era entrato proprio anche nel disco dei Sictamburo, quindi non solo c'è quella versione lì, ma c'è anche proprio una versione rifatta dagli AUK. Una sorta di remix proprio? È più che un remix, è proprio un featuring. Con gli AUK diciamo che c'è un legame abbastanza stretto. Quindi lo chiamiamo uno special proprio? Sì, è uno special, e penso che non entra nel disco, ma entrerà nel progetto, vedrete, insomma, c'è una bella storia dietro, dai. Allora, pronti a muovere gambe e test alle 19 con gli Arc or Tamburo, noi ringraziamo numero uno e ci vediamo presto. Grazie, ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Grazie per la visione